Diamo il buongiorno ai nostri ospiti. Riccardo Ricciardi, buongiorno, presidente del Movimento 5 Stelle. Ricciardi, vengo a lei. Da un campo largo, come si era detto, a un campo molto più ristretto. Ieri le parole di Conte sono state molto nette. Un disastro politico erano indirizzate a Enrico Letta. Per voi non cambia niente. A un certo punto si era pensato di un possibile accordo con Fratoianni. Poi Fratoianni ha scelto il Partito Democratico insieme a Bonelli. Dunque, andrete da soli. Vi agevola o non questa scelta? Innanzitutto, mi faccio dire che quelli che dovevano dare lezioni di politica, Letta, il responsabile, il governista, ha combinato un macello in questi dieci giorni. Questi volevano proporsi come una coalizione di governo, ma quanto sarebbe durato un governo di questo tipo? Non è durata la coalizione una settimana, figuriamoci un governo. Quindi, chi ci dice che noi non abbiamo, non siamo stati responsabili, maturi? Beh, se questo è lo spettacolo che da dieci giorni stanno dando agli italiani, meglio essere così. Beh, Fratoianni e Bonelli non hanno fatto un accordo politico. Hanno sostanzialmente lemosinato un seggio al PD. Quindi, questo è evidente, così come lo sta lemosinando Di Maio, così come gli aveva imposti Calenda. Quindi stiamo parlando di seggi, di posizioni e nient'altro. Io dico, ma le persone che non arrivano alla fine del mese, chi le rappresenterà in Parlamento? Chi dirà che non ci debbano essere i salari a tre euro e che si debba difendere la sanità pubblica e la scuola pubblica? Certo, non questa cosa che era una roba che si sapeva fin dall'inizio che non sarebbe durata. E certo non verrà rappresentata dal centro-destra questa parte. Approfitto e poi glielo faccio recuperare, Crosetto, questo minuto in più. Di Maio, a proposito, perché me lo chiama in causa lei, quest'oggi dice, noi nei prossimi giorni avremo nuovi arrivi, ci allargheremo. E dunque, voi vi aspettate nuove defezioni? Io mi aspetto che Di Maio oggi dica una cosa, tra una settimana ne dica un'altra. Quindi, per me è in commenta... Cioè, Di Maio è uno che parla e poi cambia idea completamente, quindi non so neanche come commentarlo. Allora, Ricciardi, riprendo il giro, poi Marcello magari dopo se vuoi fare un'ulteriore domanda... Sì, no, io avevo una domanda per Ricciardi. E allora, andiamo avanti, prego. Sì, no, volevo chiedere a Ricciardi questo. Questa rottura tra il Movimento 5 Stelle e il PD, insomma il campo largo, l'alleanza che si stava costruendo, è una rottura che è stata inizialmente molto, molto forte, sanguinosa, e via via, insomma, la ferita è sembrata rimarginarsi. Poi certo adesso con l'uscita di calenda dall'alleanza con il PD sarebbe nelle cose un riavvicinamento tra voi e il PD. Magari non adesso, non in questa campagna elettorale, però non so, c'è la campagna elettorale per le regionali, dove voi avete partecipato alle primarie. Ci sono alcune situazioni in cui il Movimento 5 Stelle governa con il PD. Quale sarà la sorte di queste alleanze locali e della grande alleanza che stava costruendo se si è rotto sulla caduta del governo Draghi provocata dal Movimento 5 Stelle? Guardi, io le potrei rispondere se avessi un filo logico che ci dà il PD, allora potrei rispondere. Ma se il filo logico del PD è stato nessuna alleanza con chi non ha votato la fiducia a Draghi e ieri l'altro vediamo che fanno un'alleanza con Fratoiani e Bonelli che sono stati un anno e mezzo in opposizione a Draghi, allora onestamente io non capisco che logica stia perseguendo in questo momento il PD di Enrico Letta. Noi sappiamo che durante il Conte 2 abbiamo costruito sul campo in un momento drammatico una linea politica comune e col PD avevamo lavorato bene, ma avevamo lavorato bene nel momento in cui siamo stati l'unico paese in Europa a fare il blocco dei licenziamenti, abbiamo investito sulla sanità pubblica, abbiamo con forza, soprattutto il Presidente Conte, parlato di debito comune europeo. quando quella era la linea noi ci trovavamo e vedevamo buone opportunità di poter andare avanti insieme. Quando il Partito Democratico si è rivolto a calenda, a gente che ha tagliato la scuola, parla di investimenti militari, non parla di sanità pubblica, è allora il PD che ha cambiato strategia e noi rimaniamo coerentemente dove siamo sempre stati. Do modo a Ricciardi, perché ovviamente il Conte non è qui presente, di commentare in 30 secondi le sue parole e poi riprendiamo il giro. Io sui fatti, a proposito del commento che ha fatto Crosetto, se oggi tutti i partiti hanno nella loro campagna elettorale il PNRR è perché lo dobbiamo al Presidente Conte, che è andato in Europa a prendere il PNRR. Se l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elogiato l'Italia per come ha gestito la pandemia, lo dobbiamo al Presidente Conte, non a Giorgia Meloni che parlava di dittatura sanitaria perché voleva aprire tutto quando non si poteva aprire niente. Solo una battuta prima, il PNRR ha un nome e un cognome, Angela Merkel, perché la decisione... Ha fatto Angela Merkel in Italia... Che la leader in Europa in quel periodo fosse Angela Merkel non Conte, però non accettava all'inizio uno schema. Lo dice il mondo, quindi io lo considero un passo avanti importante nell'Europa quello e penso che Conte abbia avuto... Fratelli, l'Italia ha votato 5 volte no sul PNRR all'inizio, questo lo dobbiamo ricordarlo. Lei poi faccia il conduttore, non faccia la parte. No, io faccio il conduttore e richiamo la memoria. Poi le chiedo un commento, questo per carità. Non si schieri troppo. Ci mancherebbe. Che cosa pensano di fare Crosetto che più probabilmente andrà al governo, magari non lui personalmente, e Ricciardi che più probabilmente andrà all'opposizione, anche se non è detto, perché dicevamo che in Parlamento poi può succedere di tutto. Che cosa pensano di fare per prolungare questi effetti? Perché noi abbiamo visto due decreti aiuti i cui stanziamenti sono avvenuti senza fare spostamenti di bilancio, cioè senza accrescere il debito. Cioè sono il frutto di un'economia che riprende, il frutto di un'economia che produce utili e che producendo utili produce anche più tasse, non tutte quelle che dovrebbe magari, però producendo più tasse produce più mezzi per affrontare la crisi. Allora, facciamo due risposte in 40 secondi, prima Ricciardi e poi Crosetto, e poi facciamo l'ultimo giro di domande. Guardi, il tema sugli imprenditori. Gli imprenditori, al di là del taglio delle tasse, vogliono che ci sia delle scadenze chiare e precise, delle direttive chiare e precise, perché un imprenditore all'inizio del mese non sa cosa deve pagare alla fine del mese, teme di avere sbagliato qualcosa, ha mille scartoffie da firmare e da portare avanti. Ricciardi, l'opera di sburocratizzazione di questo paese è fondamentale per gli imprenditori ed è fondamentale per la nostra impresa e la digitalizzazione, il processo di digitalizzazione che abbiamo iniziato noi al governo di questo paese è quello che ci chiede l'impresa. Ricciardi, oggi i parlamentari del Movimento 5 Stelle si chiude la presentazione alle 14, le chiedo, ci sarà Di Battista e se non ci sarà potrebbe poi essere ripescato, ha un futuro al Movimento 5 Stelle di Conte? Di Battista è come tante altre persone che possono aiutare il Movimento 5 Stelle in questa fase, sta ovviamente parlando, come ha detto il Presidente Conte, ma ripeto, come tante altre, questo io non so alla fine cosa deciderà, però presenteremo sicuramente la squadra migliore per il paese. Noi abbiamo pensato tanto ai programmi ora, non tanto a collegi, liste o quant'altro. Allora, ci fermiamo qua. Intanto grazie a Riccardo Ricciardi.